Arrivata la reazione da parte della Repubblica Dominicana contro una forte Cina, comunque un punto che vi spinge alla partita importante di domani. Ha arrivato la reazione della Repubblica Dominicana contro la Cina, avete fatto un punto che è molto importante per il partito di mattina. Sono entrato in partita sapendo di dover lottare, ha detto che questo punto è stato molto importante e sono contento di questo. Come preparerà la gara di domani? Come preparerà il partito di mattina? Abbiamo studiato il Japone, abbiamo bisogno di entrare a giocare il gioco che noi sappiamo giocare, che è un gioco agressivo, abbiamo bisogno di cominciare meno errori e continuare a giocare come stiamo giocando il mondiale, stiamo giocando molto bene, a buon livello e luchare per i punti, fino al final del partito. Ha detto che studieranno la squadra avversaria, continueranno a lottare, a giocare sui loro punti di forza, la loro aggressività, la loro strategia e cercheranno di vincere questi due punti. Quindi, siamo arrivati a vedere i nostri obiettivi, e la nostra strategia sarà la nostra difficoltà, in order di continuare a concentrare sul match. Quindi, ci saranno davvero le tiglie di domani. Grazie a tutti.